Inizia il secondo tempo della partita Selenissima San Pio X base 96 il risultato è 3 a 0 per la S.A.I. Eccolo che arriva, ma che arriva? Dai dai vieni Matti, vieni Matti, vieni Matti, stai lì, bravo, dai gioco, 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 aprimi là, ok, vieni, 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 vieni. Oh! Non vengo più di là, stai tirando lui, vengo di qui! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.